Pubblico caldissimo qui all'EAFC Rush Stadium! 3, 2, 1, palla in gioco! 3, 2, 1, palla in gioco! Situazione di uno contro uno! Non ha inquadrato il bersaglio! La indirizza centralmente! Porto palla sulla destra! Attento qui! Interrompe l'azione! Posizioni! Gioco fermo! Posizioni irregolari! Gioco che riprende! Palla persa nella zona neutrale! Contrasto deciso! Strava nel gol davantaggio! Che partenza! Si torna a giocare! Si spinge in avanti! Non si scompone! E para senza problemi! Prova a guadagnare campo! Possono sfruttare gli spazi! Si oppone alla conclusione! Vince l'uno contro uno! Non ci è andato nemmeno vicino! La gioca profonda! Non accorre! Non accorre! Decide di avanzare! Non accorre! Non ci è andato lontano! Rinvia lungo! Para senza problema! Occhio qui alla possibile ripartenza! Si fa vedere! Attento qui! Interrompe l'azione! Avanza nella zona neutrale! Avanza indisturbato sulla destra! Rinvia lungo! Si porta via la palla! Si porta via la palla! Non trova la porta! Prova con il lancio lungo! Trova nel gol della doppio! Si riporta! Interviene e ferma tutto! Palla! Gol! Gigantesca! Palla entra! Si riporta sotto! Si ricomincia! Gli è andata bene! Si riprende a giocare! Para senza problema! Possono ripartire in contropiede! La indirizza centralmente! La indirizza centralmente! Si invola verso la porta! Conclusione completamente sballata! Palla! Avanza in zona d'attacco! Non ha centrato lo specchio! Palla in gioco! L'arbitro assegna la rimessa con le mani! Attacca defilato dalla sinistra! L'arbitro tira fuori il giallo! Palla di nuovo in gioco! Conclusione sul fondo! Scambia con! Scocca la metà di gara! Crossa nel mezzo! Non la blocca! Occhio! Rischia l'arbitro! C'è fuori gioco! Punizione battuta! Regalano palla nella zona neutrale! Ha splintato la porta! Punizione corta! Intervento due! Prova a creare qualcosa! Spera riconquistata! Occasione per il contropiede! Goal! Squadra divisa da due lunghezze ora! Si torna a giocare! Attaccano per recuperare lo svantaggio! Nuove palla in zona d'attacco! Palla in angolo! Va per il tocco corto! Ottima posizione qui! Regalano il possesso in difesa! Contrasto deciso! Contrasto deciso! Contrasto deciso! Punizione battuta corta! C'è il cartellino giallo! Si riparte con la punizione! Si riparte con la punizione! Occhio qui alla possibile ripartenza! Avanza indisturbato sulla destra! Avanza indisturbato sulla destra! Opportunità sfrecata! Rinvia corto! Si becca il secondo giallo! Si becca il secondo giallo! Occhio! Opta per il tocco corto! Attenzione! Occasione! Viene Avanti! Trova il gol! Anche in inferiorità! Si ricomincia! Muevono palla! A caccia di spazi! Senza problemi il portiere! Trenta cattisce il risultato sul 4 a 2! Si torna a giocare! E' nuovamente disponibile! Preferisce impostare da dietro? Torna in campo! Squadra di nuovo al completo! Attento qui! Interrompe l'azione! Porta palla centralmente! Deve aggiustare la mira! La gioca corta! Prova a rendersi pericoloso! Reta! Da fin vincente sulla rispinta! Si riparte sul punteggio di 5 a 2! Occhio a questa iniziativa! Non si dà pace per questo errore! Rimessa! Grande senso della posizione qui! C'è spazio per la ripartenza! Ferma la conclusione! Non attira per dietro alla gatta! Palla che spiove nel mezzo! Pallone messo fuori! Attacca defilato dalla sinistra! Senza problemi! 10 secondi alla fine! La mette in zona centrale! Prova a rendersi pericoloso! Si riprenderà con un calcio d'arbre! E' finita! Vincono 5 a 2! Perfei l'arbre! Legica... Compact over 9 a 2!